70 anni di Ambrosioneum significano anche un impegno del laicato cristiano, della chiesa ambrosiana. Che cosa può dare la componente fondamentale dei laici credenti a questa città? Riportarsi alle origini. 70 anni vuol dire nel 1946 l'Italia usciva dalla guerra. 2016 l'Italia esce, si dice che si è uscita, sta uscendo da una gravissima crisi. Ecco, si tratta di trovare anche qui le motivazioni, si tratta di trovare i progetti che possano effettivamente dare la possibilità di portare i valori essenzialmente personalistici, che sono la base della Costituzione, all'interno di una dinamica che è una dinamica in corso per cui tutti sono chiamati a lavorare. Nessuno può chiamarsi fuori in questo momento. La possibilità che Milano possa farcela, se parte non più soltanto dalla proposizione dei problemi concreti, che sono tanti e immensi, ma parte soprattutto dalla considerazione dello sviluppo possibile e sostenibile, e questo possibile sviluppo sostenibile e qualità della vita è possibile se c'è un'idea di città, se c'è un progetto di città. Noi potremo avere, magari grazie anche al governo e alla nuova amministrazione, delle agenzie nella Ex-Area Expo a seguito della Brexit, ma questo non basterà se saranno solo degli uffici. Bisognerà che questo sia inserito in una visione generale della città, di qui a 10-20 anni almeno.